Il festival che volge al desio, facciamo poetici dai. Sì, abbiamo concluso questa edizione in formato molto esteso, anche decentrato nel territorio del comune di Ponte d'Era. È stato un bel viaggio, abbiamo cercato di conquistare un nuovo pubblico e penso che possiamo essere soddisfatti e prossimo anno cercheremo di fare ancora meglio. Abbiamo avuto moltissimi artisti, gruppi, maestri. Credo che la diversità culturale della programmazione abbia cercato di rappresentare i talenti del Mediterraneo, del mondo di lingua portoghese. E non solo. E non solo, anche con delle produzioni originali e credo che anche il pubblico abbia risposto molto bene. Fermorestando, che naturalmente il nostro non è un festival per le grandi masse, meno male che è così. Però cerchiamo di offrire un luogo dove si può anche pensare attraverso la musica, riflettere e anche vivere gli spazi urbani in un modo diverso. Un presidio di melange multiculturale. Esatto. Viviamo in una società multiculturale, una società connessa, interdipendente e alla fine questa diversità culturale mostra come è da una parte importante preservare questa diversità, dall'altra si vuole anche mostrare come questa diversità non è un ostacolo al dialogo, ma anzi lo rende più bello e più interessante. Perché naturalmente se parliamo con due persone che sono totalmente, hanno le stesse idee, sono esattamente uguali. Che noia. Che noia, esatto. Quindi magari nella diversità ci si può appassionare anche di più, arricchire, dare e ricevere. Per cui è un po' questa la filosofia che dietro questi spettacoli che sono ricchi di cultura, anche di talento musicale e non solo, di musicisti che sono anche dei pensatori, che sono dei creatori, che sono dei compositori, che danno un contributo per tirare il meglio di noi stessi. Quindi anche sono, penso, dei concerti che fanno anche riflettere. Quindi non è il nostro festival culturale, non di intrattenimento. Probabilmente non avremo mai le grandi masse, le ballerine brasiliane. E' un luogo dove invece le persone possono, c'erano stasera, per esempio, bellissimo, c'erano due gemelline di due anni, una ha seguito il concerto fino in fondo. Inizia a costruirsi anticorpi e linguaggio per affrontare un futuro culturale. Certo, e anche per offrire qualcosa di diverso della televisione, dell'intrattenimento, del predominio dello schermo, grande o piccolo che sia, e quindi la possibilità anche di vivere alla comunità, in questo esempio questa comunità della rotta, è un bel esempio anche di questa associazione Il Mattone, che contribuisce a rendere più coesa la comunità, creando occasioni di incontro. E questo è sicuramente qualcosa che piace, che ci piace, che è positivo. Primo anno del festival, diciamo, in tournée nelle zone intorno al Ponte d'Era, vero? Eh, con questa intensità sì, poi aggiungendo anche le iniziative che abbiamo fatto a Casa House, che abbiamo fatto all'ospedale, addirittura anche delle serate in contemporanea, e quindi, no, possiamo, è stato uno sforzo anche questo, ringraziare anche questo staff di Sette Soic, che è veramente composto da ragazzi e ragazze con grande entusiasmo, grande voglia di fare, e quindi anche un bel, insomma, un bel esempio anche di nuova generazione, no, che sono davvero dei ragazzi che si impegnano tantissimo, con degli orari di lavoro molto allungati, però, sempre con questo entusiasmo che naturalmente ci motiva. Ma non fanno niente durante tutto l'anno, via ora fanno lavorare, mi stanno tardi, ma forse no. Non sembra, ma purtroppo è diventato un lavoro, specialmente negli ultimi anni, ci avevano promesso che queste nuove tecnologie cosiddette, no, ci avrebbero, lavorano le macchine, noi ci dedichiamo ad alti pensieri filosofici, invece siamo noi che lavoriamo dietro a queste macchine, perché qualsiasi cosa oggi vogliamo fare, dobbiamo sempre stare dietro al portale di turno, a questa deriva tecnologica, che come la nostra esposizione, che è l'installazione che si fece una decina di anni fa, di grande fotografo Olivero Toscani, che fece queste fotografie di questi asini portoghesi, di una razza protetta, che li fotografò come delle top model, e intitolò l'esposizione Hardware più Software uguale Asini, per dire che questo eccesso tecnologico, alla fine ci stiamo diventando degli asini, penso che siamo sulla buona strada, sinceramente. Certi versi. Sì, è così. 25 anni di Sette Soli su Sette Loce, 26 anni, l'istituzione culturale è probabilmente più anziana di Ponte d'Era. Eh, diciamo, preferisco usare longevo, diciamo, come, sembra un aggettivo più, 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 soft, più longevo, no, è sicuramente il festival più longevo di Ponte d'Era, e non solo, ed è una manifestazione che ha le sue, alle sue radici, e non solo a Ponte d'Era, ma anche in molte città d'Europa che ci accolgono con entusiasmo, e non solo, anche recentemente, un paio di settimane fa abbiamo fatto anche in Marocco, abbiamo trovato un, c'è un movimento di persone, artisti, ma anche politici, che io definirei illuminati, che credono in questa possibilità di dialogo, di anche di programmare qualcosa di diverso, per cui mi sembra... In questi 26 anni è cresciuto moltissimo, sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista del numero di spettacoli, sia dal punto di vista dell'estensione geografica e internazionale. Certo, tra l'altro colgo l'occasione anche per invitare il nostro bravo giornalista, anche per programmare meglio, innanzitutto, le ferie, diciamo, innanzitutto, devo fare una critica aperta, pubblica, che ci si va a fare in Cambogia, voglio dire, dovrei programmare le vacanze a Sette Solici, noi abbiamo a Capoverde, abbiamo cinque centri culturali, dove possiamo ricevere, abbiamo anche residenze artistiche, abbiamo anche dei ristoranti, abbiamo delle bande musicali, quindi l'invito, ecco, per riflettere di più, è il momento di programmare... Non riflettere davanti a un tempio Khmer, ma... Ma di fronte alla bellezza del mondo Sette Solici. Come nasce, invece, fuori di scherzo e di metafora, questo progetto che è diventato, appunto, una cosa straordinaria? Nasce all'interno del liceo classico di Ponte d'Era, è animato da un gruppo che è vessato, vessato da professori, diciamo, di stampo, diciamo, medievale, diciamo, ottocentesco. Siamo prima del 68, insomma, vien? Siamo vessati dal greco antico e dal latino, quindi, diciamo, c'è stata una forma di reazione fisiologica a tanta vessazione, per cui è nata questa idea di, diciamo, di trovare uno sbocco culturale a tanta oppressione. Il rifiuto di Parmenide, eh? Ma diciamo che Parmenide, se ce l'avessero spiegato meglio, forse l'avremmo apprezzato di più, invece in quel modo è stato più difficile. Quindi l'essere si è trasformato in cultura portoghese, eh? Esatto, esatto, esatto. Quindi siamo arrivati alla conclusione che dovevamo metterci in viaggio, quindi cercare una strada diversa, perché naturalmente Ponte d'Era è bella, ma vista, già naturalmente, è una città di provincia, poi 30 anni fa era ancora, diciamo, c'aveva naturalmente una città che era i periodi giovani all'epoca, c'aveva delle possibilità, ma anche delle... Molti limiti, insomma. Molti limiti, certamente. Poi, io non ho 90 anni, però era un tempo, non dimentichiamo che, quando abbiamo cominciato il festival, non c'era internet, non c'erano i cellulari, non c'erano le compagnie low cost, c'erano molte meno risorse. C'era l'Interrail. Esatto, c'era l'Interrail, esatto. Infatti, la prima volta che ho visitato il Portogallo, l'ho visitato con l'Interrail, con tanti sacrifici. E in effetti, già da allora, il Portogallo apparì come una terra promessa, diciamo, all'epoca, e che in effetti ci ha accolto bene. Infatti, anche questo gruppo universitario che viene da Porto mantiene questo spirito, quest'anima portoghese che è un'anima universalista, che aprono, aprono, hanno una capacità di accoglienza, di disponibilità, e questo va dato omaggio alla grande cultura portoghese, questa cultura di civiltà che si esprime in tanti modi. Il Portoghese, quando mangia, mangia con tutta la calma del mondo, come è giusto che sia. Il cinese, invece, si appressa inseguendo esigenze economiche, quindi, a noi ci piace, invece, questo modo lento. Strano che anche il modo di vivere orientale, Zen, è molto lento, che assaporano ogni istante. Forse i cinesi... Forse erano. Eh, esatto. Ora, si è abbastanza velocizzato, e il problema è che forse ci sta disumanizzando, no? E quindi bisogna correre, quindi, queste corse. E invece, il popolo portoghese ci piace proprio questo messaggio umanistico. Quindi, dalla cattività ponte d'Erese, cicla, terra promessa, sulle tracce di Enrico il navigatore, cos'hai scoperto? Eh, abbiamo, innanzitutto, incontrato Giuseppe Saramago, ma poi, proprio questa, quest'anima bella portoghese, che è una società giovane, quando siamo arrivati la prima volta, era un paese che era uscito da 15 anni dalla dittatura, e quindi, questa società giovane, il nostro essere giovani, proprio anche anagraficamente, che non vuol dire che ancora oggi non lo siamo, quindi ho voluto fare questa precisazione per, diciamo, l'attento... Cambiamo argomento, cambiamo argomento. L'attento giornalista, e quindi, è stato bello, perché ci siamo, abbiamo fatto questo cammino insieme, tra, in un periodo, direi, mitico, ecco, proprio nel, nel come si è, si è formato un paese, dal, dopo secoli, di isolamento, no? C'erano gli entusiasmi, post salazzare, ancora? Certo, nella provincia, soprattutto, già vedere un italiano era un evento, un evento che già meritavi, un invito a pranzo a casa, e devo dire che anche questa è un'altra grande lezione, questa di, di aprire le porte di casa, al forestiero, no? Proprio per, proprio una, un bel gesto dell'ospitalità, no? Che oggi è qualcosa di, che sembra quasi dimenticare, quasi desueto, perché uno che viene da fuori, non, non lo inviteresti mai, no? Nella, nella tua casa, e quindi, cioè questa, no? Questa corsa al, al, direi, ai serramenti, è sempre più, no? Più, chiavistello, diciamo, questa, questa corsa al chiavistello, mentre poi, no? Ci, poi le nevrosi che vengono negli appartamenti, no? Dopo questa chiusura, invece, è la benessere di decidere, con questa cultura, nell'ospitalità, anche di, vuole conoscere, chi c'è. Una volta era comunque, tipica dell'area mediterranea, è un po' persa. Esatto, esatto, direi che, secondo me, esiste tuttora, in tante, tante persone, anche a Ponte d'Era, in Italia, non bisogna, certamente, però, è, come dire, quasi che ci si vergogna, ecco, diciamo, nel senso, magari, istintivamente verrebbe da, da aiutare, però, con tutte queste, no? Questi discorsi, questo, questo, eh, allora, bisogna, quasi, no? farlo di nascosto, però, secondo me, l'anima nostra è così, è proprio un'anima di, di accoglienza, di, di ospitalità, di generosità. non è di moda, non è di moda, però, in realtà, è qualcosa che, non ci scordiamo, appunto, italiani, il popolo di emigranti, che sono, la moda non è una caratteristica del centro, se ti so, se ti lo, diciamocelo. Eh, può darsi, può darsi, quindi, seguiamo, non vi ridere, e meno la singola, non è la singola, non è la singola, e la singola, e la singola, e la singola, e la singola, non saprei risponderti, poi, off record, diciamo, approfondiremo l'argomento. Capolavoro di Woody Allen. Grazie, grazie, grazie. La sindrome dell'uniformazione, il bisogno di uniformarsi, dove, Leon Arzelig, interpretato da Woody Allen, non solo si uniformava con i pensieri, ma, cambiava proprio, fisionomia, quindi, veniva studiato in tutto il mondo, perché, eh, assumeva l'aspetto fisico, del gruppo, con cui stava parlando, con cui stava interagendo, secondo, la sindrome del novecento. Eh, potremmo parlare anche della sindrome di Stoccolma, che, tutto sommato, è anche, questo rimanere prigionieri del, no, del, di queste, di questi, questi rapitori, di questi politici, che ci stanno rapendo, no, senza parlare qui a livello nazionale, ma, insomma, questi, questi populismi, no, in essere, da Trump in giù, no, tutto sommato, eh, ci stiamo quasi, compiacendo, stiamo quasi, no, compiacendo di quei, di questi personaggi, che, probabilmente, ci stanno facendo dei danni, grossi, magari, non veramente, stanno facendo dei, dei danni, importanti. Chiudiamo qua? Chiudiamola qua. Chiudiamo. Sì, sì, sì. Sì,